sii, a GoPro nooo, non c'è il mio stacca muttico, basta e per lo meno, manco la termotoria è meglio per te, pronto per la sua intervista qui con Ramona si però non va bene, io ora ora nel coso nel... nella sigla sono vestito in tutte e due puntate uguali lo so è lui dell'ordo 12.38 sento dei grampi vecchi lascialo stare si quello è il rec quella telecamera è perizzo è perizzo fatela GoPro e via ma quando? è curiosità com'è? lì già devi fareee tu puoi fare cosa vuoi dire con curiosità te lo invetti con curiosità un nuovo trendy trend no, 31 è la curiosità numero 2 il gile in cile un altro un altro un altro un altro non lo voglio il genio è tagliato non lo so la mano ecco lo so siete campioni di surfi riserva 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 un porco c'è una mostra se no poi si offende la fate la sigla non la fate ricordano non bestemmiate che c'è il backstage ragazzi non ti hanno fatto il mangiare ora su whisky e ciompolo davvero è ciompolo perché la fai le battote che è ciompolo ok i genzi i genzi non assaggiare nemmeno oggi va bene fai vinto perché è tutto vinto pre 1 13 buona vai pre 1 13 capito pre 1 come? pre 1 pre 1 hai fatto 13 cari? no non che pare bastardo dai vabbè caro mi tengo le piedi di balsa la tua storia è falsa eh loco libero fossi figo le quatterei locale giusto vai ti dì a posto fossi figo lo serei vestiti trend e se uno sanno il capo orrendo che nessuno li vive azionato 15 vestiti GoPro siamo pronti con il video della tua vita io devo montare i video e tu ti accacciai così è vero no vabbè ma cosa si fa? è la mia croce è la mia croce è la mia croce qualsiasi cosa faccia c'è registrazioni aspetta no ragazzi qualcuno spostalo e la mia croce ha voidato spossa tu volevi dare la quattro la quattro mi manca la quattro e ho benissimo video ufficiale di stanza e chi l'ha fatto adesso? e tu hai fatto la produzione audio? e tu hai fatto la produzione audio? non è questa, la mia produzione è quella di uscire e ma dico tu hai fatto l'inizio? ah ok microfono acceso che dito? non so se si vengono hai capito? no ma mica per lui la zona la zona, il nostro clima, il pianoforte, le luci perfetto proprio come aveva sognato l'artista 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 Jack aspetta quando lo dico io ci sei? si esterna 1 ecco che devo fare? esterna 1 no vabbè ospite 1 ospite 1 quando dici tu? sei pronto? faccio stretto si il rec? si vai ospite esterna 1 ma tu devi essere sincero non pare quanto sei stronzo da 100? quando mi girano i coglioni 100 facciamo un'intervista 200 guarda che meraviglia di situazione oh spettacolo guarda caro dittello guarda che meraviglia di perli in basso e fai un video così guarda sempre apprezzati ok ok tipo tipo così siete tutto anzi facciamo la scena di un porto dell'aria dai che poi c'è poca la batteria c'è poca la carta c'è no? si si ci siamo? vai tranquillo vai dai è proprio passato un cortometraccio dove minchia sei poca dove minchia sei? oh quante puntate ha fatto Daniele oggi? niente nessuna niente non c'è venuto quel pezzo di merda gli avevo detto di venire di incontrarci alla galleria Vettorio di Emanuella è venuto ma non ha fatto niente perché? prossimo domedì facciamo quattro e quattro cifra eh no va a quattro ma io ora che fai? ora la leggetta c'era i rincontanti che devo fare questa valigetta? a che era siete rimasti con Peppe? siamo rimasti un'una e mezza siamo rimasti un'una e mezza quindi niente va bene si però fatelo fuori in fretta al favore non ne posso stare qua ad aspettare e con i soldi che faccio? e questo no non è sicuro beh vai fai due passanti Fede agitato piano così no? così animale di merda va bene ciao passi film manca un altro che dovevo venire che ci sono due nuove da gamba e mezza allora guardate sempre lui ok e io niente sono in più no non sei pronto vai fino e rispettato amico di tutti aspetta animale non ci fa niente qui quella è per il per il chac non serve il sincrono bella con l'audio ma non ci fa niente il chac serve il video è un gioco del sincrono il video di 12 chiedi il logo oh ma scuotare ammieto va bene scuotare non ti preoccupare hai ragione azione pronto si pronto 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 e ragazzi l'ambellico ma le proporzioni sono sbagliate qua tipo io non riesco devo attaccare i due cartoni qui dal basso e che ci vuoi fare attaccando i due cartoni questo è che paga lo scherzo por kidnapping non ti cosa vuoi dire che non puoi ahoglio sia uomo il tumblr tumblr ti trasforma sempre Il perrucchieri aveva fatto una fantasia E io ho fatto una cosa che non si sono a dire puntare Sono un rucchio di scarso Olgo si chiama Si chiama? Olgo Si chiama Lucas Perché su una volta era sbagliato Pensare che mi aveva messo Olga Però mi ha detto Mi chiede il maschio E io l'ho messo la O Alla fine Che non poteva andare a vedere tutto Parlate? Ok Rечь? Vai Scusite bom Brava brava Prima sono chef Non fa certo ora. Ora conosco, ora ti sveglio. Gino. Alla crescettata. Deve uscire un gran backstage, diciamo, con tutte queste cose, diciamo. Penso che ci sarà l'ultima puntata per l'immedio di Precombera. Come fa pariente di Filippo. Cioè, oppostamente, su subisce una spara in più. Poi legge una puntata da tutti i cazzati. Che è vero. Devo dire che tu parlo lascia, però tipo cacca, cacca. Sono bello, ragazzi. Un figlio ciò che fa col cacca. Arriva. Dove è bello, però. Bebete. E uno. Questa parte del caffè. Oh, però non ci siamo. Andiamo lì, vediamo l'altro. E' un bello che stai. Dicono, l'ora non si lavano. Non lo manco. 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 Lillo Fiorelli. Uguale. Mi fanno imbarazzi? Con 50 millimetri. Però se tu hai la tua faccia. Ti è imbarazzato, sei proprio. Ciao, Chef Che mi dico? Oh, sotto la cerba Beh, dissi Perché il mio lavoro non ne vale 50 euro Pronto, Chef Come fanno gli americani Fuck you, bitch, fuck you Ciao, Chef A 3.000 Bravo, Chef E' fermo, pezzice adesso Ti ha pugni nei fianchi, mi dici Ci diamo? Si, pronti siamo Piano Piano Sei loco Osana 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 Santo Buon applauso allo Chef Shalom Madonna Madonna del Carmelo Piano 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 Ma non ce l'hanno Piano 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 Siamo Piano 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 ed è ne provo la Gaetano con le mani fatte mangiare la prima è iniziata sul web la seconda era MAMENTV ma adesso con la terza è un punto di partenza per arrivare al top anche se già ci siamo grazie ci dispiace lasciarvi ora prima di lasciarvi iniziamo con la scuola è stato inventato nel 1920 una sorta di prefazione però la fai tu dopo